benvenuti sul canale il diario di un musicista musicologo in questo video vi presento un disegno che raffigura il teatro se voi di londra vi leggo l'articolo che commenta l'immagine nuovi teatri di londra il teatro se voi lo accrescersi dei vari mezzi di comunicazione che pongono in grado di frequentare i teatri molte persone le quali prima se ne astenevano a motivo delle distanze a tratto seco la necessità di aprire nella metropoli inglese nuove sale di spettacoli e uno degli edifizi recentemente aperto è il se voi di proprietà del signor doily cart posto in un centro favorevole qual è quello fra lo strand ed il victoria embankment esso venne costrutto sotto la direzione del signor phipps architetto praticissimo del genere avendo già fabbricato da 33 a 34 teatri la facciata del se voi ed i fianchi sono in mattone rosso e pietra di portland esso può contenere circa mille persone da qualsiasi punto della sala si può perfettamente godere lo spettacolo della scena in tutti i quattro lati vi sono delle numerose e comode uscite le decorazioni sono bellissime vi predominano le tinte delicate il bianco e loro l'ambiente è illuminato mediante la luce elettrica sistema swan la luce prodotta è dolce e brillante a un tempo non dissimile da quella delle candele di cera e la si può considerare come un vero successo il teatro venne aperto per la prima volta il 10 ottobre scorso con l'opera comica patience trasportata dal teatro omonimo dopo una serie di 169 anni rappresentazioni ed anche nel nuovo teatro ebbe un esito favorevolissimo ma Grazie a tutti. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto.